E' inutile bussare qui, non vi aprirà nessuno. Questa versione di questa mia famosissima canzone mi ricorda qualcosa, vero? Grandissimi Nino Frassica e Fabio Fazio. Un caro saluto da Adriano, siete fortissimi. Abbiamo ospite Adriano Celentano. Ma io non sai questa cosa? Tu sei sicuro? Sì, sì, sì. Adesso noi bussiamo. Ma non disturbiamo. Bussiamo e beviamo se esce e lo intervistiamo. Mi sembra strano. Io busso. Va bene, bussa. E' inutile bussare qui, non vi aprirà nessuno. Ma si può riprovare? Come è venuto? Bene, riproviamo. Ma fa ridere. Fa ridere. Io la riproverò una volta, vediamo se funziona. Allora, lo disturbiamo, però prima bussiamo. Sì. E' inutile bussare qui, non vi aprirà nessuno. Io la farei in continuazione. Abbiamo finito. A gentile richiesta. A gentile richiesta. No, basta, basta. No, ancora. E' inutile bussare qui, non vi aprirà nessuno. Dove andiamo? Andiamo. Falcoscenico.